Eccomi ci siamo, buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Allora, io sono Roberto Ferrazzi, lavoro in Microsoft nella divisione, nella Customer Success Unit. Mi occupo sostanzialmente di Adoption, quindi sono una divisione che si occupa sui clienti finali di far usare i nostri prodotti. Oggi vi parlo di Copilot, sorpresa, M365 Copilot. Io sono una persona di Modern Work, quindi mi occupo di tutti i temi che ruotano intorno al mondo Modern Work e per noi Copilot in Modern Work si chiama Copilot for Microsoft 365. Copilot sapete che è il nome che abbiamo dato a un po' tutti, diciamo, all'intelligenza artificiale all'interno dei nostri prodotti e c'è un Copilot ormai per qualunque cosa. Oggi vi parlo del Copilot per la produttività, quindi per il mondo Office, per il mondo Microsoft 365. Vi faremo una carrellata molto veloce sull'architettura, credo che ve l'abbiamo già spiegata tante volte, però mi piace sempre partire da un po' di fondamenti per vedere poi nella pratica Copilot in azione. Quindi dicevo, Copilot per il mondo Microsoft 365 è l'intelligenza artificiale che poi abbiamo portato dentro il mondo Microsoft 365, e quindi le applicazioni Office, quindi c'è un Copilot dentro Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote, Loop, Whiteboard, magari mi sono dimenticato qualche cosa, però c'è più o meno dovunque. Vi faccio vedere come, parliamo un attimo appunto delle basi, che cosa c'è sotto il cofano di Copilot, quindi come funziona il tutto. Allora, il tutto parte da un prompt, poi parleremo un po' meglio della parola prompt, quindi un qualcosa che parte da un'applicazione, un'applicazione Office, o dalla M365 Chat, come la chiamavamo prima, adesso è la Copilot Chat, ma sostanzialmente è un oggetto che lavora non solo su una singola applicazione, ma cross tutte le applicazioni e i dati del mondo Microsoft 365, quindi iniziamo con un prompt. Il sistema Copilot, che cosa fa? Attraverso il processo di grounding, accede attraverso Graph, che è un po' l'interfaccia universale verso il nostro tenant, quindi attraverso Graph va a recuperare, quindi traduce quello che è stato chiesto da un'applicazione, da un utente, quindi il prompt, lo traduce in un intento di search, va attraverso Graph a reperire le informazioni, quindi va a guardare dentro le nostre mail, i nostri dati, i nostri chat, i nostri documenti, eventualmente utilizzando dei plug-in è possibile anche integrare l'acknowledge che sta sul nostro tenant, anche verso oggetti terzi, quindi attraverso plug-in e connettori, vengono recuperate le informazioni, Copilot confeziona un prompt modificato, che sostanzialmente è il prompt iniziale, più le informazioni che ha reperito via Graph, fa un bel pacchettone e lo spedisce al modello, all'LLM, che è di mestiere, che cosa fa? Metabolizza quello che gli abbiamo mandato e ne produce qualche cosa che è interpretabile da noi esseri umani, quindi utilizzando linguaggio naturale. In questa fase vengono fatti tutti i check di Responsible AI, quindi ci preoccupiamo che il contenuto sia conforme appunto ai criteri, ai pillar di Responsible AI, e il tutto viene poi rimandato al sistema di Copilot, che fa un ulteriore passaggio attraverso Graph per fare check di Compliance, quindi va a verificare se effettivamente quello che è stato prodotto e generato può arrivare a me e con i dovuti criteri di conformità e di sicurezza. A questo punto avviene il post-processing, quindi il risultato viene poi riportato a Copilot che lo restituisce all'applicazione che lo ha generato, fornendo in risposta i dati, ok, in linguaggio naturale, ma non solo, fornendo anche il set di comandi che servono all'applicazione. Se io da PowerPoint ho chiesto di generare una presentazione su quell'argomento, mi ritornano i dati di quell'argomento, più i comandi che servono a PowerPoint per costruire la presentazione come io gliel'ho chiesta. Quindi questo è un po' il giro che fa Copilot dietro le quinte. In concreto che cosa ci permette di fare Copilot? Cioè che cosa possiamo ottenere? Possiamo ottenere tutte queste cose che vedete qui, quindi possiamo utilizzare Copilot per imparare qualche cosa, quindi per apprendere qualcosa su dei contenuti. Possiamo utilizzarlo per ottenere dei riassunti, una presentazione, un documento, un qualcosa di complesso, possiamo ottenere un sunto. Possiamo utilizzarlo per trasformare dei contenuti, quindi partendo magari da un documento Word, possiamo chiedergli di creare una presentazione. Possiamo utilizzarlo per ottenere informazioni riguardanti un certo argomento che è transitato attraverso mail, chat e quant'altro. Possiamo chiedergli di analizzare cose. In Excel c'è la possibilità di appunto analizzare dei dati e magari fare anche delle proiezioni. Non ultimo, quindi il creare dei contenuti, quindi creare dei contenuti utilizzando l'acknowledge che arriva dai modelli piuttosto che dal nostro tenant. Questo è un po' tutto quello che Copilot è in grado di fare. Abbiamo detto all'inizio che il tutto parte con un prompt, ma che cos'è un prompt? Un prompt sostanzialmente è una frase, un qualcosa che io scrivo in linguaggio naturale che per ottenere un buon risultato deve contenere degli ingredienti. È vero che possiamo utilizzare il linguaggio naturale, però se vogliamo ottenere un buon risultato è bene che il prompt contenga delle informazioni abbastanza precise. Ad esempio, l'obiettivo, creami tre o cinque bullet point, piuttosto che un documento da due pagine, piuttosto che un contesto. Contesto, perché gli stiamo chiedendo questa cosa? Per preparare una relazione, per discutere con il cliente, per quindi il contesto. La source, è vero che Copilot è in grado di lavorare su tutto il mio tenant, però se gli do un ambito un po' più preciso magari ottengo un set di informazioni un po' più contestualizzate, piuttosto che una marea di cose. Quindi guarda nelle mail, piuttosto che nelle chat, piuttosto che nei documenti, nel periodo che va da A, ad esempio, e alla fine gli dico effettivamente come voglio, quindi le mie aspettative, dammi un documento dettagliato, usa acronimi, usa linguaggio semplice. Meglio compongo tutto questo in un prompt, meglio, migliori saranno i risultati che io otterrò. Ovviamente con la possibilità di reiterare i prompt. Il prompt con Copilot non si limita a un singolo prompt, è una conversazione. Quindi io posso iniziare con un prompt, ottenere dei risultati, non mi soddisfano, continuo la conversazione ma senza doverla ripetere da capo. Però è chiaro che se il prompt contiene gli ingredienti giusti, i risultati saranno sicuramente buoni. Bene. In quali casi, diciamo, Copilot for Microsoft 365 si può calare in qualunque situazione. La cosa importante, e questo è un grande lavoro da fare, che è, diciamo, un po' la novità rispetto al passato, rispetto agli strumenti di produttività del passato. Se prima c'era un prodotto, c'erano dei comandi, c'erano delle situazioni che potevano essere, sì, calate in modo diverso nelle varie realtà lavorative, con Copilot questa cosa è ancora più amplificata. Cioè, Copilot non c'è un modo giusto, sbagliato di usarlo, ci sono milioni di modi che fittano ognuna delle realtà che vedete qui. Quindi, ognuna di queste figure può trovare il proprio caso d'uso e può trarre beneficio dall'uso di Copilot. Oggi vi faccio vedere come esempio un esempio per una persona del mondo finance. Vi faccio vedere un percorso, che è sostanzialmente questo qui, con una serie di esempi di utilizzo. Allora, questo è, per esempio, il flusso che una persona che lavora nel finance può fare per la gestione, per esempio, di un RFP. Quindi può partire, per esempio, con andare a recuperare le informazioni dalle mail, dalle chat, o da qualunque altro posto per avere contesto, fare una selezione di un fornitore in Excel, andare a recuperare delle informazioni che sono state discusse in un meeting, compilare la RFP da mandare appunto ai vari fornitori, confrontare poi le risposte che tornano dai fornitori, i fornitori manderanno poi delle offerte in formato PowerPoint, vedremo come analizzarle, e alla fine come mandare una mail al mio team per dare appunto il risultato della mia selezione. Ok, partiamo e vediamolo in azione. Allora, abbiamo detto, prima di tutto partiamo dalla copilot for Microsoft 365 Chat, prima la chiamavamo Microsoft 365 Chat, che è l'oggetto appunto che dicevamo lavora cross applicazioni e cross dati. Qui posso iniziare dicendo elenca le mail riguardanti l'RFP per il progetto del productivity chatbot, sostanzialmente l'RFP sarà per la creazione di un productivity chatbot basato su intelligenza artificiale. Qui vado a digitare il mio prompt che è sparito, in realtà c'era. Qui Copilot sta andando a guardare nelle mie mail, nelle mie chat, nel mio mondo Microsoft 365, e mi trova queste informazioni. Per esempio, trova che ho parlato appunto con la mia collega Silvia, che ha inviato lunedì scorso una mail, con, vedete, il puntamento all'informazione che è stata reperita. Quindi io ho il riferimento preciso da dove Copilot è andato a prendere le informazioni. Io cliccando andrei dentro il mio outlook, mi aprirebbe la mail da cui arrivano le informazioni che mi ha trovato. Ok? Quindi ho recuperato il mio contesto molto bene. Ora, step 2, devo andare a selezionare i miei fornitori. Quindi immaginate di avere, io adesso ne ho una decina, ma immaginate di averne mille fornitori catalogati per fatturato, per tutta una serie di informazioni. Copilot in Excel ci permette appunto di utilizzare il linguaggio naturale, come in questo caso io potrei selezionare appunto la mia tabella e chiedere per esempio di evidenziare in verde i nomi dei due migliori fornitori da invitare all'RFP in base al fatturato e al numero di prodotti venduti nell'ultimo anno. Copilot in Excel vedete ancora in preview è forse il copilot in questo momento un po' più limitato rispetto agli altri dal punto di vista degli skill. C'è da dire che per chi è un ninja in Excel magari lo troverà un po' limitato. Per me che sono un utente pessimo mi ha svoltato la vita veramente. Perché anche operazioni basiche adesso questa è veramente basica però immaginate veramente di avere un documento molto grande io ho utilizzato linguaggio naturale e non ho cliccato un menu. In questo caso vediamo che i due fornitori che matchano il criterio che gli ho chiesto sono appunto Fabrica, Merle Cloud per i due criteri che gli ho chiesto. Ok? Bene andiamo avanti a questo punto ok a questo punto ho bisogno appunto di scrivere la mia RFP il documento però è un documento complicato e non ricordo come si compila e quali parti devo andare a compilare. però di questa cosa ne abbiamo discusso in un meeting di recente io e i miei colleghi. Ora vado in Teams questo è il meeting a cui abbiamo partecipato registrato dove trovo il tab Recap che vi ricordo il tab Recap fino a qualche mese fa ce l'avevamo solo se avevamo la licenza Teams Premium. oggi chi ha la licenza Copilot ha il tab Recap uguale ok quindi l'esperienza con o senza Teams Premium per gli utenti Copilot non cambia e io qua trovo effettivamente la sintesi del mio documento ok quindi se trovo la risposta qua bene altrimenti vado nel mio forse facciamo che perché non ci va ok nella finestra Copilot scusate ma bello della diretta niente ha deciso che non lo apre va bene abbiate pazienza non so perché non me lo apre qua sostanzialmente per cui mi affiderò alle AI Notes e andrò a reperire le informazioni da qua stavolta mi accontento di questo sostanzialmente qua ho bisogno di andare a reperire le informazioni su come compilare la mia la mia RFP ora cliccando il pulsante Copilot io avrei accesso alla chat dove posso interagire con dei prompt rispetto al meeting per esempio avrei potuto chiedergli dimmi come devo compilare la sezione 1 del modello tutto ciò che è stato trascritto Copilot in Teams meeting funziona sulla base della transcription del testo quindi io il meeting devo aver avviato la trascrizione bene ora ho le informazioni che mi servono per compilare il mio documento di offerta posso procedere a farlo quindi prendo il mio documento Word questo è il mio modello vado a cercare la prima parte che devo compilare che è praticamente la panoramica dell'RFP ok quindi inserire lo scopo bla 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 io mi posiziono all'interno del mio documento pulsante Copilot apro la finestra di Copilot dove vado a digitare il mio prompt e qui gli chiedo di scrivere una breve introduzione contenente lo scopo e l'intento di un RFP per un chatbot basato sull'intelligenza artificiale volto a migliorare la produttività degli utenti aziendali di contoso vado a generarlo qua cosa succede succede che Copilot sta andando a prendere l'acknowledge quindi le informazioni le sta andando a prendere dal modello dall'LLM dall'istanza privata di LLM che sta su Azure e che quindi ha a disposizione di Copilot da cui può attingere le informazioni ok mi ha generato un risultato che io posso tenere o posso chiedergli di rigenerarlo o posso reiterare vedete io ho un prompt dove io posso dirgli fallo più formale più lungo più breve gli do delle informazioni più di contesto a me sta bene eventualmente anche dopo averlo già scritto io potrei selezionare posso cliccare Copilot e andare a rigenerarlo e rimodificarlo ok andiamo a cercare l'altra sezione invece che è la parte di tecnologia quindi nella seconda parte del documento ok tecnologia ok qua dobbiamo andare a descrivere qualcosa a proposito della tecnologia che voglio che venga utilizzata per il mio chatbot a questo punto vado qui e digito il mio prompt scrivi un paragrafo dettagliato che copra tutti i requisiti tecnologici che una soluzione di chatbot conversazionale basato sull'intelligenza artificiale dovrebbe possedere per migliorare la produttività dell'utente finale utilizza ricordate quando vi dicevo dei prompt la parte finale cioè le aspettative quindi io cosa voglio voglio che utilizzi linguaggio tecnico gli sto chiedendo di mettere degli acronimi quindi gli sto dando indicazioni molto precise sul contenuto che voglio che venga generato ok anche in questo caso abbiamo il nostro contenuto vedete è molto dettagliato e ha usato degli acronimi quindi io posso dirgli tienilo ok vi ricordo sempre stiamo parlando di copilot quindi un copilota ok posso fidarmi bene sì oppure posso anche verificare le informazioni modificarle e tenerne conto come meglio credo in questo caso però oltre all'elenco vorrei che queste cose venissero magari riassunte anche in una tabella quindi io potrei selezionare i vari punti cliccare l'icona copilot e dirgli per esempio visualizzalo come tabella questa è un'altra delle funzionalità di copilot in word ok vedete copilot mi ha trasformato in tabella la parte che io ho selezionato creandomi le due colonne quindi componenti e descrizione per ogni contenuto allora adesso lo tengo ve lo faccio vedere anche solamente su questa parte vediamola su tutta ogni volta che io do un prompt in questo caso io sto chiedendo di riscrivere una parte che è già presente copilot mi propone vedete una prima versione del contenuto riscritto lasciamolo terminare ok quando ha terminato o comunque prima di validare il risultato io posso comunque andare a cambiare alcuni settaggi per esempio posso cambiare il tono e dirgli che lo voglio più formale meno formale casual eccetera ok quindi posso andare a tarare il risultato rispetto appunto a quello che voglio io ok bene abbiamo preparato la nostra la nostra rfp a questo punto la mandiamo ai nostri fornitori quindi andiamo in Outlook copilot in Outlook ci permette di così la vediamo meglio di ottenere la funzione di drafting di email quindi copilot in Outlook che ci permette di riassumere mail o scrivere mail attraverso dei prompt in questo caso anche qui vedete io posso già settare subito alcune cose rispetto al risultato quindi se lo voglio formale diretto neutro poema diciamo è un modo scherzoso per farvi vedere che copilot è in grado di generare di modificare il tono in funzione di quello che scegliete voi direi che a noi piace formale e lunga e gli diciamo di scrivere un'email dettagliata invitando il fornitore Fabricam che era uno dei due che abbiamo visto essere quelli buoni per noi a rispondere a una richiesta per una soluzione di chatbot conversazionale basata su intelligenza artificiale per migliorare anche qui vedete molto dettagliato cioè più è dettagliato il prompt migliore sarà risultato specificare che allegheremo il documento Word appunto che abbiamo appena preparato e che la risposta dovrà arrivare entro il 15 di marzo in formato powerpoint non superiore a 20 slide genero ok allora me l'ha generata in inglese io il client outlook in inglese quindi in questo momento funziona così però io ho comunque un prompt dove posso dirgli per esempio riscrivila in inglese in italiano ok vedete quindi col prompt io posso reiterare andare avanti nella conversazione e chiedergli di modificare il risultato ok direi che ci piace mettiamo in coppia i nostri fornitori alleghiamo il documento e gliela mandiamo bene i fornitori ci hanno risposto quindi i due fornitori che abbiamo interpellato ci hanno mandato la loro presentazione con la loro soluzione cosa possiamo fare in powerpoint in powerpoint possiamo iniziare per esempio visto che è una presentazione molto lunga chiediamo a powerpoint di riassumere questa proposta nei punti chiave in modo da avere solamente le cose importanti una sintesi delle cose importanti ok vediamo che le informazioni sono queste quindi riusciamo ad avere un contesto tenete conto che queste informazioni potete copiarvele e portarvele in un documento di Word per esempio se volete vederle meglio ma possiamo anche approfondire l'analisi chiedendogli se dovessi essere critico nei confronti di questa proposta e avessi bisogno di mitigare il rischio il più possibile quali aree di questa proposta potrei approfondire e discutere con il fornitore quindi potete utilizzarlo anche per fare analisi potete dargli un contesto e chiedergli di essere più specifico su determinati ambiti ok secondo la presentazione se vuoi essere critico nei confronti di questa proposta il rischio è e vi propone alcuni punti che potrebbero essere dei buoni punti da discutere con il fornitore ok stesso discorso l'altro fornitore Rale Cloud ci siamo andati a sua proposta eccetera ora vorrei fare una comparazione tra queste due quindi avere una comparazione tra queste due offerte e avere una vista un po' più comoda per me per poterle analizzare meglio come possiamo fare utilizziamo la nostra M365 chat quindi l'oggetto che ci permette di andare cross sui vari prodotti sui vari sulle varie applicazioni e potrei dirgli questo uno degli skill che è in grado di fare la copilot chat è appunto il confronto tra documenti quindi io potrei dirgli elenca in una tabella le differenze riguardanti i tempi di realizzazione quindi gli chiedo io le informazioni che voglio che mi estragga dai documenti e mi compari tra i documenti proposte da a questo punto vado a referenziare i due documenti che mi serve comparare con lo slash quindi digito lo slash copilot mi fa vedere una serie di oggetti che io posso referenziare nella chat che sono persone email meeting io tutte le azioni che vi faccio vedere le posso fare nei confronti di documenti ma anche di questi oggetti in particolare ho bisogno di referenziare dei documenti quindi inizio a digitare il nome del documento che era fabricam response vedete io man mano che digito copilot mi elenca i documenti che matchano la parte di testo che io ho digitato ovviamente devono essere oggetti raggiungibili da copilot quindi devono stare o nel mio one drive se sono documenti o su sharepoint o su teams o comunque cose raggiungibili dal cloud non cose che stanno magari su un file server o sul mio disco locale della macchina ok questo è importante quindi seleziono il primo documento e l'altro documento che era rele cloud response ok quello che io ho fatto con due file powerpoint lo potrei fare con documenti word con pdf e powerpoint ovviamente non con file excel in questo momento la comparazione tra documenti excel non è fattibile ma è anche complicata e forse poco sensata ok questo è il risultato quindi mi dice ecco una tabella che compara i due documenti che non so se sono anche abbastanza differenti poi il contenuto chiaramente sarà ora vabbè ha ciccato un po' la formatazione però diciamo che quello che c'è è corretto corretto se a volte basta farglielo rifare un'altra volta e lo genera meglio però lasciamo vabbè ormai lasciamolo andare ok quindi comparazione mi ha tirato fuori i dati che io gli ho chiesto in maniera puntuale no non sto a rifarlo perché dovrei referenziare tutto ok a questo punto ho diciamo le valutazioni che mi servivano ce le ho a questo punto posso chiedere sempre alla chat di se ok di preparare una mail utilizzando le informazioni che ho appena ottenuto quindi prepara una mail da inviare al mio team per selezionare il fornitore riportando i dettagli nella tabella tenendo sempre conto che questa è una conversazione io non ho bisogno di ridirli di nuovo di confrontare eccetera perché nella conversazione già glielo ho chiesto già me le ha date le informazioni a questo punto gli dico di preparare una mail da mandare ai miei colleghi tenete conto che in questo momento adesso lui mi prepara la mail mi prepara quello che potrebbe essere la base per una mail quello che posso fare io adesso è farmi un copia e portarmela in Outlook a breve entro la fine di questo quarter entro la fine di questa metà di anno solare arriverà la possibilità di interscambio tra le applicazioni quindi arriverà la possibilità di avere un pulsante dopo che mi è generato questa cosa che io clicco e mi apre Outlook e mi compone già la mail esattamente come oggi non posso passare informazioni tra le varie applicazioni in futuro lo potrò fare per esempio in Word potrei dirgli creami un documento basato su un documento sui modelli intelligenza artificiale e creami anche la presentazione a quel punto c'è appunto interazione tra il contenuto del documento Word che viene poi passato a PowerPoint per creare la presentazione oggi lo devo fare in maniera manuale ok quindi ho preparato il mio documento me lo copio vado in Word e lo mando ok avete domande sul giro che avete visto vai mi sentite sì voglio capire il perimetro su cui dei dati su cui attinge Copilot cioè ottima domanda ci potrebbero essere incidenti dove io chiedo qual è il RAL di un mio collega e lo trova tra le mail dell'HR e me lo dice allora c'è questo rischio se quell'informazione è accessibile a te nel senso Copilot non va a scardinare nulla Copilot si appoggia ai modelli di security e compliance che oggi sono applicati al vostro ambiente ok quindi se io tutte le informazioni che ho ottenuto le avrei potute ottenere in maniera tradizionale cercandomele e mettendole insieme quindi questo è la regola se poi quell'informazione lì da qualche parte è stata condivisa è chiaro che che la Copilot potrebbe trovarla ma non è Copilot che va a scardinare è capito è chiara questa cosa no allora questo è chiaro ma quando si dice che va alla ricerca tra le varie mail o i vari teams che ci sono stati quindi nelle mail di altri mail allora tu stai lavorando in un contesto utente e quindi Copilot nel tuo contesto utente accede alle informazioni alle quali tu puoi accedere né più né meno ok cioè perché un contesto invece diciamo benevolo è non so siamo uno staff IT e un mio collega ha risolto dei problemi e io vorrei attingere anche dalla sua diciamo esperienza e dire come si può risolvere adesso vabbè in un contesto di OneNote o che ne so però cioè o è condiviso però non è che lui va a pescare su esperienze di terzi della mia azienda ovviamente Copilot diciamo lavora su quello che viene indicizzato da un motore che si chiama semantic index semantic index è un motore di indicizzazione che viene attivato sul tenant che va a indicizzare i contenuti che stanno nel tenant che cosa va a indicizzare va a indicizzare tutto ciò che è indicizzabile quindi testuale tutto ciò che risiede sul mio tenant e indicizza anche la mia componente la mia componente utente andando a vedere i documenti che e le informazioni che io ho usato di recente e che o che che è condivisa con due o più persone se io ho un documento mio non condiviso lì e non lo uso quello rimane lì ma comunque l'accesso a me attraverso copilot viene dato solamente a ciò a cui io ho i permessi che ci sono già i default quindi se un documento one note è già condiviso tra te e il tuo collega copilot probabilmente è in grado di trovare di usare la knowledge che arriva da lì ma non da mail che il mio collega ha fatto con il cliente ma non da cose di cui tu a cui tu non hai accesso ok anche tutta la componente di classificazione quindi sensitivity label eccetera ovviamente viene onorata da copilot ok quindi anche i documenti che vengono trovati o il riferimento il knowledge che arriva da documenti classificati la classificazione vale comunque anche rispetto a quello che ricevi tu ok ok un'altra domanda e se nel contesto di sharepoint ho pdf e non diciamo powerpoint perché magari il fornitore mi manda il powerpoint fatto su stampato in pdf diciamo a livello digitale quello può essere comunque compreso e messo all'interno della la presentazione salvata in pdf pdf è uno dei formati che è in grado di utilizzare di analizzare copilot quindi ed è già ed è un formato che viene già indicizzato anche da semantic index quindi se tu hai dei documenti pdf che contengono informazioni quelle informazioni vengono indicizzate da semantic index e li puoi puntare per fare per esempio l'operazione che ho fatto io tu gli puoi io adesso il confronto l'ho fatto con due powerpoint ma avrei potuto farlo anche con due pdf ovviamente il pdf deve essere un pdf che contiene testo quindi non immagini scannerizzate proprio il classico powerpoint forse stato un pdf avrebbe funzionato bene tra l'altro non so se avete sentito proprio ieri annuncio di ieri abbiamo annunciato che il modello LLM che sta dietro a Copilot abbiamo rilasciato il gpt4 turbo che è il modello uno dei modelli più evoluti che va un po' ad abbattere una serie di limiti che avevamo fino a ieri all'altro ieri per esempio sui pdf non era proprio così performante o comunque c'erano grossi grossi c'erano dei limiti rispetto alle dimensioni del documento se il documento era molto lungo l'analisi del pdf non era proprio precisa il gpt4 turbo invece abbatte anche questi e vedrete che comunque se l'avete utilizzato prima vi accorgerete che c'è grossa differenza dal punto di vista delle performance e anche dei risultati grazie prego qualche altra domanda? tutto chiaro? adesso l'abbiamo visto in un diciamo in un percorso però diciamo la grande sfida è non tanto imparare a usare lo strumento ma quanto a calarlo nel modo giusto di lavorare trovare veramente lo use case che vi aiuta a risparmiare tempo a fare meglio il vostro lavoro diciamo questo io ho un background tecnico però quello che sto facendo molto di frequente in questo periodo è più questo tipo di lavoro che di tecnico avete visto dietro c'è pochino la grande sfida è aiutare trovare i clienti quindi calarlo nel nel modo giusto e trovare il caso d'uso perfetto giusto che vi faccia risparmiare del lavoro e faccia fare meglio il vostro lavoro ok qui vi ho lasciato qualche qualche riferimento copilot lab è accessibile a chi ha licenza copilot è un diciamo un modo una libreria di prompt che vi può aiutare per esempio a partire da alcuni prompt d'esempio per le varie applicazioni divise appunto per applicazioni lo scenario library dove ci sono effettivamente degli scenari d'uso dai quali si può trarre spunto per le varie figure di cui che vi ho accennato prima e il sito con gli update le novità tra cui quella che vi ho citato appunto nuovo modello rilasciato giusto ieri ok detto ciò vi ringrazio se avete domande io sono comunque qua in giro grazie